Buongiorno a tutti, spesso una delle prime domande che il cliente ci pone è perché dovrebbe rivolgersi ad un agente immobiliare professionale. Bene, io credo che la risposta sia insita nella domanda stessa e cioè un cliente deve rivolgersi a noi perché siamo i professionisti del settore immobiliare, siamo coloro che conoscono il mercato, siamo coloro che conoscono i valori e che sanno come funziona e come va gestito. Spesso le credenze popolari raccontano che solo i proprietari di immobili che vogliono vendere o affittare i loro beni si rivolgano agli agenti immobiliari, invece sempre più spesso gli acquirenti si affidano agli agenti immobiliari proprio per la loro professionalità, proprio perché hanno la necessità di un professionista al loro fianco che sia in grado di consigliarli e svolgere tutta quell'attività consulenziale che per troppo tempo altre figure professionali hanno provato a fare senza le dovute competenze. Oggi sempre più l'agente immobiliare è colui a cui affidarsi per essere certi di stare facendo l'acquisto giusto, essere certi che il valore di mercato richiesto sia quello corretto e così essere certi di un controllo e di una verifica documentale necessaria per arrivare alla conclusione di una compravendita trasparente, verificata e sicura. Ecco l'importanza di affidarsi ad un vero professionista immobiliare, ecco quindi l'importanza di affidarsi ad un agente immobiliare FIAIP, ecco l'importanza di affidarsi ad un agente immobiliare FIAIP certificato con il metodo di lavoro una FIAIP.